A rappresentare Armando Ticconi della Securline di Roma abbiamo il piacere di avere qui con noi Enrico Anut. A lui chiediamo di che cosa si occupa la Securline. Securline è un'azienda che dal 1997 si occupa di sicurezza. Il signor Armando Ticconi che è una persona che da molti anni lavora nell'ambito della sicurezza, opera in maniera professionale nell'integrazione di sistemi di sicurezza, antintrusione, videosorveglianza e tutto quello che riguarda comunque la sicurezza. Questo viene fatto in un'azienda con una decina di collaboratori più il titolare e viene fatto con estrema professionalità la collaborazione dei migliori operatori del settore. Benissimo. In occasione della premiazione con gli H d'oro Securline si è posizionata al primo posto nella sezione nella categoria educazione ed istruzione. Qual è la motivazione di tale H d'oro? Innanzitutto un ringraziamento alla fondazione e alla giuria dell'H d'oro per questa premiazione che è giunta inaspettata e molto piacevole. La motivazione sicuramente immaginiamo che sia stata per la complessità dell'impianto dovuta sia all'integrazione di un sistema video da centralizzare con oltre 300 telecamere, una serie di videoregistratori veramente ampie e l'integrazione anche di un impianto di anti-intrusione e anche questo centralizzato. Ma soprattutto per il tempo che è stato impiegato, oltre sei mesi per l'installazione, è dovuto al fatto che all'interno dell'Università Roma 3 bisognava coniugare gli orari in cui fare le installazioni con gli orari dei docenti che dovevano andare a insegnare. È stato veramente un grande sforzo, però abbiamo visto che comunque sia il committente che la giuria hanno potuto apprezzare questa cosa. Benissimo. Ringraziamo quindi la Securline di Roma e per ulteriori informazioni potete visitare il loro sito in sovraimpressione. Grazie.